uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di news e che news riguardanti fortnite finalmente epic games ha fatto un comunicato ufficiale si ragazzi ne abbiamo parlato proprio nel video di ieri alle 13 e 30 che non si era ben capito cosa succedeva per quanto riguardava la season 2 il 6 febbraio il 20 febbraio dove il comunicato beh ragazzi qualcosa si è mosso sappiamo che ufficialmente la season è stata posticipata al 20 febbraio ma la motivazione è veramente molto molto interessante nel video di oggi infatti parleremo oltre che della nuova season anche della nuova fisica in game fisica studio a scuola no non è la fisica quella che studia a scuola è il modo in cui l'ambiente che ci circonda si modificherà già a partire dalla patch 11.50 quella che dovrebbe arrivare i primi di febbraio quindi probabilmente martedì prossimo o fra due martedì staremo un pochettino a vedere e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a trovarmi sulla piattaforma viola in live dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando codice creator xuderone e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima è la domandina ve la devo devo fare raga anche ieri mi avete risposto in tantissimi alla domanda e vi ringrazio domanda di oggi domanda di oggi allora cosa è meglio mouse e tastiera oppure il controller per giocare a fortnite forza forza fatemi sapere qua sotto nei commenti tutte le vostre idee tutti i vostri punto di vista che sono curioso ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi il primo argomento che non poteva che essere il tweet ufficiale pubblicato nel mezzo pomeriggio verso le 16 17 di ieri dove fortnite dice we have an update on chapter ci abbiamo un update per il capitolo 2 della season 1 e vogliamo farvelo sapere in quanto la prossima season e si si sposta a vedere ovviamente il comunicato poi è steso ufficiale nella sezione news di fortnite che dice è la comunità di fortnite a partire dall'uscita dell'aggiornamento 11.50 in arrivo all'inizio di febbraio fortnite passerà al sistema di fisica chaos di unreal engine quindi motore grafico sempre a real engine ma nuovo sistema di fisica dei luoghi al momento del rilascio vogliamo assicurarci che fortnite resti sempre fortnite anche se lungo la strada ci saranno stati degli ostacoli per questo motivo stiamo iniziando dei test con un piccolo brucco gruppo di giocatori e terremo gli occhi puntati sui feedback così da fare migliorie e aggiustarli nel tempo con l'arrivo dell'update 11.50 il lancio della season 2 del capitolo 2 è programmato per giovedì 20 febbraio la season 2 avrà con molteplici però non possiamo ancora svelare tutti i segreti della prossima season baci abbracci tanti saluti è stato un piacere insomma ragazzi 20 febbraio giovedì tanta tanta roba ma la domanda è ma che cavolo è il chaos chaos della real engine da ragazzi vi lascio un attimino con questo video per farvi un'idea di che cosa vuol dire il chaos chaos nella real engine ragazzi ragazzi Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!